BZLOGA SIGLA Allora, oggi voglio parlarvi di un film che ho potuto vedere in anteprima nazionale la scorsa domenica cioè era un'anteprima aperta a tutti che c'è stata in praticamente la maggior parte del cinema d'Italia quindi probabilmente anche altri di voi sono riusciti a guardarlo e non vedevo l'ora di parlarne perché effettivamente ero abbastanza curioso non ero fomentatissimo come altri che quando era uscito il primo trailer mi avevano scritto come impazziti chiedendomi cosa ne pensassi perché nessuno si aspettava che avrebbero realizzato questo film che è stato annunciato quasi a sorpresa che ormai era già pronto e io sinceramente risposi sì mi sembra carino il trailer però niente di particolarmente eccezionale quindi diciamo che il film mi è piaciuto di più rispetto a quello che avrei creduto mi riferisco ad una pellicola del 2024 per la regia di Mike Mitchell e Stephanie Mustin ed è Kung Fu Panda 4 finalmente Po torna al cinema con il suo leggendario appetito e a proposito di questo gli è andata bene che nel mondo in cui vive non esiste Revolut altrimenti avrebbe potuto ordinare molto più facilmente le tonnellate di cibo che è in grado di mangiare e sarebbe stato un disastro Revolut è un'app che potete scaricare gratuitamente vi registrate, scegliete la carta più adatta alle vostre esigenze e se la scaricate dal link che trovate in descrizione qui sotto avete un bonus di benvenuto del valore di 20 euro potete spendere e risparmiare su tutti i prodotti dei vostri brand preferiti grazie alla conveniente funzionalità cashback anche su siti come Amazon ma soprattutto c'è la funzione salvadanaio che vi permette di mettere da parte soldi che potete poi utilizzare per progetti futuri il che non è affatto male e anzi è utilissimo potete pagare online e fisicamente con vari sottoconti in dollari, sterline e tantissime altre valute oppure potete tenere il solo conto in euro e sarà l'app a occuparsi di fare il cambio per voi ad un tasso competitivo e con commissioni basse o inesistenti su Revolut avete anche una visione chiara di come e dove spendete i vostri soldi perché ogni acquisto viene notificato all'istante e mostrato nel budget per esempio Po usando Revolut si sarebbe accorto di star spendendo l'80% del proprio patrimonio in ristoranti e avrebbe potuto aggiungere degli avvisi automatici per evitare di spendere più del dovuto ed è una cosa che è utile anche a me per lo stesso identico motivo perché io con Po condivido la voglia di mangiare e soprattutto il fisico insomma una banca digitale che vi offre un'app pazzesca e che vi permetterà di soddisfare tutte le vostre esigenze scaricatela dal link in basso e sbloccate il bonus di benvenuto di 20 euro ma adesso torniamo alle esigenze di Po che ancora una volta ha dovuto salvare il mondo a colpi di panza sì quando io seppi che avrebbero realizzato Kung Fu Panda 4 ho pensato ah no ancora cioè non mi sembrava che questo franchise avesse altro da dire dopo il terzo già il terzo era comunque un po' debolino per quanto a me fosse piaciuto per cui ho pensato mi sembra la classica tattica di Dreamworks di battere il ferro su i franchise che funzionano di più ed effettivamente ci sono persone che pensano che forse dovrebbero fare cose nuove ma io dico anche che se le cose nuove che Dreamworks fa sono come Ruby Gilman allora forse è meglio che si concentrino sui seguiti perché comunque se Ruby Gilman è stato un floppone spaventoso e se non sbaglio non è arrivato neanche ai 50 milioni di incasso che veramente è un'ecatombe d'altra parte il gatto con gli stivali era andato molto bene poi in realtà Dreamworks una cosa nuova spettacolare di cui si è parlato troppo poco è Orion e il buio scritto da niente poco di meno che il buon Charlie Kaufman che però è solo su Netflix e non è passato dal cinema per cui sì è pur sempre un film Dreamworks ma forse è troppo adulto, maturo e sperimentale da meritarsi la sala, non lo so stare il fatto che se le cose nuove che fanno sono come Orion e il buio va bene se sono come Ruby Gilman allora continuo a solo fare cose come Kung Fu Panda 4 per cui il film mi ha divertito molto di più rispetto a quello che avrei potuto pensare dal momento che innanzitutto guardando il trailer mi era spiaciuto che non ci fossero i 5 cicloni anche se progressivamente film dopo film avevano iniziato a defilarli moltissimo anche nel terzo non è che ci fossero più di tanto per carità qui nel film hanno, in questo quarto film hanno trovato una scusa un po' blandina per toglierli di mezzo c'è un motivo per cui non si vedono e in generale mentre guardavo i film mi sembrava tu che fosse tutta un'avventura quasi poco utile mi sembrava che ci fosse qualcosa che non andava poi mano a mano che il film prosegue in realtà ingrana il ritmo diventa un pochino più costante io l'ho visto in una sala piena di bambini e non ho notato questo grandissimo entusiasmo onestamente non ho sentito bambini che ridevano a squarciagola come invece era accaduto per i film precedenti e mi è spiaciuto perché io invece mi sono divertito tantissimo forse è un film con battute un filo più adulte rispetto a quelli precedenti poi ci sono battute anche Puerili come si può vedere dal trailer lui che fa la scoreggina e sveglia l'esercito di Iguane o Draghi di Komodo, quello che sono comunque sia ci sono le battute un po' infantili però ce ne sono altre che secondo me invece sono decisamente più mature e io sostanzialmente dico la verità l'ho trovato molto interessante anche perché comunque manda dei messaggi non particolarmente originali sono messaggi abbastanza standard abbastanza già sentiti però lo fa in una maniera a mio modesto avviso efficacissima perché comunque si parla del dover accettare le cose che succedono bisogna accettare i cambiamenti non si può fuggire da quella che è la vita non si può pretendere di vivere nel modo in cui si vuole anche quando le cose stanno per cambiare ed è inevitabile quindi è un film che parla proprio di accettare i cambiamenti rendendosi conto che diverso non vuol dire per forza brutto o peggiore ed è secondo me un messaggio estremamente importante soprattutto di questi tempi io noto che una grande problematica delle persone in generale è proprio l'accettare che le cose cambino come in qualunque ambito si scopre che qualcosa sta cambiando subito soprattutto sui social le persone imbracciano il forcone la torcia no questa cosa non me la potete togliere sono impazziti è così quindi un messaggio del genere in un'epoca dove il cambiamento è completamente rifiutato a mio modesto avviso non è affatto male e poi hanno anche inserito personaggi nuovi ad esempio Jen che a me piace tantissimo è un personaggio che dai trailer a me non è che facesse impazzire mi sembrava il classico personaggio nuovo che inserisci per sopperire a delle mancanze non è che mi intrigasse più di tanto invece il rapporto che si va a creare tra lei e Po è interessante peraltro una cosa che ho apprezzato veramente tanto di questo film è il fatto che tre film sulle spalle di Po si vedono cioè Po è cambiato è sempre un pirlotto molto infantile però allo stesso tempo è molto consapevole di chi è come guerriero dragone e forse è proprio questo il punto è talmente consapevole che di fronte alla prospettiva di dover cambiare è terrorizzato quindi è sempre Po non è che sia cambiato come personaggio a livello di carattere però a livello di maturità sì perché comunque ormai è sicuro delle proprie capacità solo che ovviamente anche in quel senso è chiamato a una nuova sfida è chiamato a mettere in discussione queste capacità e quindi va in crisi però mi piace perché comunque ha più esperienza rispetto al primo Kung Fu Panda cioè si vede che è passato del tempo tra l'altro c'è una scena che richiama una delle mie battute preferite del primo film quindi non potevo che essere contentissimo e secondo me poi ci sono i due i due padri Bing e il e il e il Panda che a me continuano a fare ammazzare da ridere sono forse i personaggi con le gag più divertenti in questa pellicola e un difetto del film è il fatto che in alcuni momenti sembra che siano delle gag messe in fila proprio una in fila all'altra per buona parte del film poi secondo me le fila vengono piano piano tirate e si va verso una direzione anche molto interessante soprattutto nell'ultima mezz'ora poi non è un film che dura molto dura una retta e mezza quindi è anche un film che si guarda abbastanza in fretta ti fa passare quell'oretta e mezza piacevole però si diciamo che per tutta la prima parte sembra quasi che il film abbia subito dettagli molto pesanti cioè mi sembrava di non star guardando un nuovo capitolo di Kung Fu Panda quanto boh una sorta di cosa estemporanea come se non non so come come se stessi guardando avete presente i film tipo gli ovvi di Dragon Ball quelli che non aggiungono niente alla trama e che spandono solo alcuni concetti ecco sembrava di guardare una cosa tipo quella il che non è un male però mi sembrava fosse una cosa più piccola rispetto all'evento che invece dovrebbe rappresentare un Kung Fu Panda 4 ma era solo l'introduzione mano a mano che il film avanti fortunatamente poi succedono delle cose che mi hanno fatto dire ah ok allora allora mi calano l'asso di bastoni ad un certo punto perché poi viene introdotta la Villain che se non sbaglio è originale ha la voce di Viola Davis mentre invece Shen che è la volpe dovrebbe essere acqua fina in originale e per l'appunto la Camaleonte era un personaggio che mi interessava perché io i Kung Fu Panda di solito li misuro come valore in base al cattivo allora Tai Lung a me è sempre piaciuto però non è un cattivo fantastico come Shen il Pavone Shen secondo me è un personaggio nettamente più interessante è praticamente il Villain di Yojimbo la vendetta del samurai di Kurosawa che poi sarebbe sarebbe comunque il Villain di per un punito di dollari Ramon per cui insomma però per l'appunto sinceramente mi interessava perché poi c'era il il generale Kai in Kung Fu Panda 3 che non era male che era un Villain sovrannaturale a me quello non dispiaceva per cui qua abbiamo la Camaleonte che come vediamo nel trailer assorbe le capacità dei Villain precedenti e questo è secondo me un espediente molto interessante perché la Camaleonte di base è inquietante certo ma ha questo potere che affonda le radici nel passato del franchise cioè a me piace questo a me è piaciuto molto come idea il fatto che questo film sia strettamente legato agli altri ne sia quasi una summa perché un film in cui effettivamente da un punto di vista narrativo cambiano tante cose molti mi hanno detto ma tu vedresti un Kung Fu Panda 5 guardate con le premesse di questo film quasi quasi sì perché sarebbe qualcosa di molto diverso rispetto ai precedenti se vogliamo proprio stare a guardare questo Kung Fu Panda 4 è quello che cambia di più in assoluto le carte in tavola all'interno del franchise e francamente questa cosa non era proprio trasparsa dai trailer quando ho capito cosa stavano facendo e qual era il destino riservato a Poe io ho pensato però ci vogliono le palle per prendere uno dei personaggi più importanti della Dreamworks degli ultimi anni e renderlo così perché comunque renderesti un pochino diversi sequel tra l'altro questo film è diretto è codiretto da Mike Mitchell che è il regista degli Shrek dal secondo al quarto di Mostri Contro Alieni da anche del terzo Alvin Superstar insomma è uno che ha diretto tanti film per ragazzi sia animati che non perché aveva diretto anche Ice Cool Eye come che comunque era mi pare un film per Disney era quello con Bruce Campbell credo non vorrei dire una cazzata vabbè comunque è un film è un regista che sa sicuramente il fatto suo e siccome si sta vociferando tanto che stanno riaprendo per appunto la questione Shrek non mi stupirebbe se lo vedessimo magari alla regia di un nuovo Shrek perché comunque dopo Il Gatto con gli Stivali 2 secondo me è evidente che stanno cercando di fare qualcosa e mi sembra che con i film dei franchise di Dreamworks storici stiano puntando al cambiamento perché se confrontiamo questo Kung Fu Panda 4 ad esempio con Il Gatto con gli Stivali 2 i finali sono molto aperti molto anche malinconici in un certo senso e a me questo piace come se stessero cercando di allineare un po' tutto non mi stupirebbe se a un certo punto vedessimo dei crossover tra i vari franchise questo mi piacerebbe tantissimo non dico che faranno un crossover tra Shrek e Kung Fu Panda no però se dovessero mai farlo a me non è che darebbe proprio fastidio quindi il discorso è proprio il fatto che il rapporto tra Po e Jen è interessante perché da un lato abbiamo il classico Po un panda dedito a mangiare come una bestia che è potente ma non riesce mai realmente ad ammettere questa potenza perché è ingenuo è modesto è buono dall'altra parte abbiamo Jen che invece è una volpe truffaldina che compie crimini appena può e quindi insomma a me questa cosa è piaciuta e la nemica da sconfiggere la camaleonte è secondo me un personaggio emblematico perché non è tanto diversa da Po nella 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 sua essenza perché comunque è un personaggio che voleva approcciarsi a Kung Fu ma punto fine e quindi è proprio l'attitudine a essere diversa perché la loro storia sarebbe uguale solo che Po ha preso una direzione per via del suo carattere mite puro la camaleonte ha preso una direzione completamente opposta perché è un essere livoroso cattivo e se all'inizio mi sembrava un villain blando mano a mano che il film proseguiva mi veniva da dire ma certo che questa è veramente una stronza effettivamente dice e fa delle cose che te la fanno veramente odiare poi in tanti mi hanno chiesto ma com'è Tai Lung quanto spazio ha Tai Lung ha lo spazio secondo me che si può pensare guardando il trailer c'è però è comunque un personaggio che è stato spedito nel mondo degli spiriti nel primo film quindi il suo ruolo non sarà la cosa più espansa del mondo però però è soddisfacente anzi è molto soddisfacente soprattutto per una certa cosa che dice a un certo punto che a me ha fatto piacere c'è una sorta di riscatto se vogliamo del personaggio che è interessante e lo hanno rimesso perché è uno dei villain più amati lo posso capire per cui va bene e secondo me è stato utilizzato con tanta cognizione di causa quindi approvo il suo utilizzo per quanto mi riguarda e per quanto riguarda invece le gag ce ne sono alcune che a me hanno veramente spezzato soprattutto quando si parla dei due papà i due papà hanno questa storia quasi parallela fino a che non si ricongiunge a quella di Poe Gen che a me faceva morire perché ci sono loro che seguono i due protagonisti perché questo film è sostanzialmente un viaggio è il classico viaggio dell'eroe alla fine del quale l'eroe ne uscirà cambiato solo che qua abbiamo un eroe e un anti-eroe se vogliamo perché Poe è più l'eroe e Gen è più un anti-eroe i due hanno un rapporto anche un filo complicato che si va a costruire hanno a mano che loro due viaggiano e quindi vediamo loro che fanno delle cose e poi i due papà di Poe che li seguono e incontrano gli stessi personaggi ovviamente però con conseguenze diverse per cui anche questo mi ha fatto molto ridere ripeto ci sono delle robe buttate lì ci sono dei momenti del film in cui sembra che non sapessero bene come mandare avanti il tutto e quindi ci sono gag su gag che si susseguono senza un grandissimo costrutto quindi non è un film perfetto anzi è un film che però mi ha divertito tanto è un film che alla fine penso che quelli che volevano vedere un nuovo Kung Fu Panda rimarranno soddisfatti cioè penso che chiunque fosse fomentato all'idea di vedere Kung Fu Panda 4 non rimarrà deluso perché alla fine sotto certi punti di vista è anche meglio ad esempio del terzo sotto altri no forse se devo proprio guardarla nel complesso potrebbe anche essere il film più debole del franchise da un punto di vista strutturale però se devo guardare nel dettaglio ha delle cose che sono meglio del terzo e anche meglio del secondo in realtà però poi nel complesso no per l'amor del cielo forse perché è un film che cambia tante cose tra l'altro per chi era affezionato ai doppiatori Shifu non è più Erospagni ma è doppiato da Carlo Valli che comunque scusate vi ho detto cazzo e in mente mi hanno detto di Vairama il Vairama non è più Bing a me sembrava sempre Ping a me sembrava sempre lui onestamente il padre Loka però sta di fatto che a livello di doppiaggio è fatto molto bene però sì hanno cambiato qualcosina per il resto hanno cambiato diverse cose proprio a livello di a livello di di caratterizzazione anche dei personaggi perché comunque c'è proprio un'evoluzione vera e propria in questo in questo film mi spiace solo che Shifu è un personaggio che viene sempre più messo da parte questo perché aveva il ruolo del Gran Maestro nel primo nel secondo sì nel terzo defilato qua defilatissimo stessa cosa i Cinque Cicloni proprio non esistono praticamente non so se è per un fattore dei voice actor perché comunque sono attori di un certo livello se non sbaglio c'erano Lucy Yu Angelina Jolie Jackie Chan David Cross era l'amantide beh comunque erano attori di un certo livello quindi magari per quel motivo li avevano un po' tolti di mezzo non lo so sta di fatto che io personalmente sono uscito dalla sala col sorrisone per quanto non sia un film enorme non mi aspettavo io comunque di vedere il miglior film di Kung Fu Panda ecco questa è una cosa che devo dire perché è una roba che mi sta sempre qua io detesto ma veramente in una maniera che non vi so descrivere è una cosa che mi fa incazzare come poche cose al mondo quando esce un nuovo capitolo di un franchise o il nuovo film di un regista di un certo livello e la gente chiede che dici sarà il migliore della saga o sarà il migliore di questo regista ma perché bisogna andare ad approcciare un nuovo film di una saga o il nuovo film atteso di un regista con l'idea che debba essere il migliore ma perché uno guarda il film e dopo decide se è il migliore se non è il migliore se è uno dei peggiori soprattutto c'è bisogno che lo sia io sono andato a vedere Kung Fu Panda 4 perché volevo vedermi un nuovo Kung Fu Panda la mia unica speranza è che non fosse una cagata fatta solo per i soldi e se devo essere sincero per me è un film che si vede che qualche problemino l'ha incontrato a livello produttivo però ci ho visto qualcosa in più della mera voglia di fare soldi ci ho visto la voglia di raccontare una storia diversa ci ho visto la voglia di riprendere in mano il passato del francese di Kung Fu Panda per fare anche un po' di fanservice fatto bene che a me è piaciuto onestamente e in un certo senso è un film che dichiara qualcosa un film che dichiara che il passato è bello il passato piacerà sempre a tutti ma bisogna sempre andare avanti e guardare cosa c'è davanti a sé e questo è interessante perché è un po' metacinematografico perché il film fa un po' quello che fa Po nel film cioè Po si crogiola nel passato perché ha troppa paura del futuro e il film in un certo senso si crogiola nel passato ma poi ti dice sì bello il passato però ricordiamoci che adesso le cose stanno cambiando e cambiano anche narrativamente il fatto che la camaleonte evochi come vedete nel trailer Tai Lung eccetera è il rimestare nel passato però poi bisogna camminare davanti andare andare in una direzione che ci porti oltre per cui è un film che secondo me ti vuole dire se dovessero esserci altri Kung Fu Panda sappi caro spettatore che le cose non saranno le stesse ma come ho detto anche io prima diverso non vuol dire peggiore vuol dire solo diverso a volte quindi secondo me è un film che tutto sommato il suo sporco lavoro lo fa lo fa anche piuttosto bene poi vabbè a livello di colonna sonora siamo messi benissimo ce ne sono un paio di temi che mi hanno fatto morire e poi ovviamente come ormai era era noto abbiamo all'interno del film la canzone che a me ha fatto vibrare il cuoricino ovvero One More Time di Britney Spears Baby One More Time o come si chiama cantata dai Tenacious D cioè performata dai Tenacious D cioè Jack Black che canta Kyle Glass che si occupa degli strumenti hanno fatto anche il video e questa cosa è fenomenale fantastica io apprezzo tantissimo Jack Black per me è un mito assoluto mi fa piacere che abbia fatto questa cosa perché prima hanno fatto il video sui social poi hanno fatto il video ufficiale che facendo capire che era per Kung Fu Panda 4 e tra l'altro si molti miei mi chiedono ma Fabio Volo com'è stato ragazzi Fabio Volo è il quarto film di Kung Fu Panda ormai lo ha interiorizzato certo Fabio Volo non è Jack Black penso che questo l'abbiamo capito però per non essere un doppiatore per per essere un cos'è Fabio Volo uno showman perché è anche un attore ma non lo definirei propriamente un attore comunque per non essere un doppiatore secondo me lui se la cava ormai sono quattro film che dalla voce a Po si vede che ha voglia di farlo si vede che ama il personaggio che è fiero di essere il protagonista di Kung Fu Panda quindi va bene così perché altri talent non mi pare ce ne siano per cui sono tutti i doppiatori professionisti a parte Fabio Volo per cui direi che va più che bene per cui è un film che vi consiglio caldamente di andare a guardare perché assolutamente vale la pena merita è una pellicola divertente con sicuramente qualche difetto non lo nego però riesce a colpire nel segno anche il modo in cui poi arrivano dalla camaleonte mi sembra un po' raffazzonato anche la camaleonte te la buttano un po' lì poi da un certo punto da un certo momento in poi riesce a diventare un personaggio sicuramente interessante però ci ero messo un attimo a rendermela qualcosa di più di una semplice villain buttata lì per cui è sicuramente un film che ha le sue criticità non si può negare però ad avercene tra l'altro al box office sta andando splendidamente perché non è costato tantissimo è costato sugli 80 milioni che comunque non è molto per quanto riguarda le animazioni ora che ora che che ci penso gli 80 milioni di budget un po' si vedono nel senso che se lo raffrontiamo con i film precedenti le animazioni secondo me sono un pochino calate cioè ci sono delle scene di combattimento che sono realizzate molto bene e mi sono piaciute però ce ne sono altre magari non di combattimento in cui secondo me le animazioni il rendering degli ambienti dei personaggi non è proprio al massimo delle potenzialità di una di una casa di di produzione come Dreamworks forse perché hanno un pochino abbassato il budget per rendere il film più sostenibile e direi che sta funzionando effettivamente quindi non che sia un grosso problema perché è una roba che si nota proprio se sta lì a notarlo però effettivamente ci sono un paio di momenti in cui ho detto si vede che forse ci hanno speso un attimino di meno però però direi che va bene così perché poi alla fine il film se lo sono portati a casa la gente lo sta apprezzando anche la critica quindi in fondo pazienza se ci sono dei momenti in cui magari animazioni e quant'altro funzionano un filo di meno perché comunque è una cosa che avevo notato anche collocato con gli stivali nonostante quello avesse uno stile molto particolare che a me era piaciuto tanto quindi alla fine il risultato finale devo dire che non è poi da disprezzare anzi quindi andate a vedere Kung Fu Panda 4 perché sicuramente rimarrete soddisfatti fate insieme in un conto qui sotto cosa ne pensate se avete già visto il film mi raccomando non fate spoiler se ne fate contrassegnate il vostro commento di cirula spoiler così non roviniamo i film che non l'ha visto io intanto vi abbraccio vi ringrazio grazie mi sono fin qui vi chiedo scusa se mi vedete un po' frastornato ma sto venendo da una da un paio di giorni di influenza secca si sente anche dalla voce peraltro respiro come un mantice quindi è probabile che mentre parlo si senta questo questa sorta di violino suonato all'interno nel mio polmone sinistro ma quello è un altro discorso infatti ho la voce che si abbassa quindi sono un attimo fuori forma però ci tenevo a fare la ci tenevo a fare la diciamo la il video oggi perché comunque era importante per cui io vi saluto e vi vedo appuntamento al prossimo movieblog se il film non lo avete ancora visto se invece lo avete visto e avete saputo nello specifico gli spoilers iniziano tra 3 2 1 allora diciamo che io ho apprezzato molto il fatto che qui Poe debba diventare il nuovo saggio che dispensa saggezza nella valle e debba smettere di essere il guerriero dragone e questo lo manda molto in crisi perché lui non ha mai saputo fare niente a detta sua l'unica cosa che era in grado di fare era essere il guerriero dragone quindi siccome lui non si sente per niente saggio è spaventato perché come guerriero dragone è rispettato la gente gli chiede gli autografi i ritrattini questa cosa mi fa ammazzare ridere il fatto che non non fa le foto perché ovviamente non esiste la tecnologia nel suo mondo e quindi si fa fare i ritratti velocissimi quando i fan gli chiedono la foto questa cosa mi spezza e per l'appunto io trovo che sia una bella tematica perché comunque abbiamo un personaggio che ci ha messo tantissimo per ritrovare se stesso per capire quali fossero le sue potenzialità poi arriva bello sano Shifu che gli dice guarda che tu devi smettere di essere il guerriero dragone adesso dovrai cercare il tuo successore e la scena in cui c'è il successore mi ha fatto morire da ridere perché per quanto la battuta sulle capre che urlano sia inflazionata qui mi ha fatto spaccare con il guerriero capra che urla lì stavo morendo non ci ho fatta ero devastato finché Po non incontra Jen e la incontra che sta cercando di rubare i manufatti del tempio e qua hanno inserito come ho detto prima quella che è la mia battuta preferita dei Kung Fu Panda lo so sono stupido rido per le cose più idiote ma io quando nel primo Kung Fu Panda Po faceva cadere il vaso delle anime e ogni volta che toccava la polvere si sentiva io morivo da ridere e l'hanno rifatta qui e quindi io sarò stato l'unico ma ero in lacrime perché era una battuta che mi ha sempre fatto spezzare da ridere e non pensavo che l'avrebbero riprese in questa maniera per cui già questo mi ha messo di buon umore devo dire e quindi c'è il viaggio per andare per appunto a cercare la camaleonte perché arrivano dei minatori che dicono Po è arrivato Tai Lung ha attaccato la miniera non sappiamo cosa fare allora Po pensa cazzo ma Tai Lung dovrebbe essere nel mondo delle anime devo andare a vedere e allora Jen che è in galera perché Po l'ha arrestata sostanzialmente lei dice io so dove è la camaleonte ti accompagno e allora intraprendono questo viaggio fino al momento in cui si va nella grande città dove c'è per l'appunto la camaleonte che sta creando il suo esercito e vuole e vuole per l'appunto aprire il portale per il mondo delle anime per rubare l'abilità del Kung Fu ai grandi maestri defunti è un'idea secondo me interessante onestamente cioè a me come idea piace piace molto come ho detto Tai Lung è usato come mi aspettavo che sarebbe stato usato perché alla fine comunque avevano Ian McShane in originale che gli dava la voce che è tornato gli altri non sono tornati nel senso che Shen e il generale Kai ci sono ma non parlano sostanzialmente perché Shen e Gary Oldman quindi non potevano non è che potessero richiamare tutti voi Sector per cui hanno richiamato Ian McShane che fa il suo numero cioè Tai Lung fa il suo numero in cui sbaraglia gli scagnozzi della Camaleonte che però riesce a rubargli il Kung Fu e anche quella scena mi ha fatto ridere perché c'è Tai Lung che gli spacca di botte tutti lei riesce a prendergli il potere del Kung Fu e dice ce l'ho fatta e ci sono tutti tutti gli scagnozzi per terra a mezzi morti che dicono eeeh brava ma quella cosa ha fatto morire da ridere cioè i lucertoloni sono fantastici ma anche nella scena in cui li buttano giù dal ponte che volano giù per la scarpata con Poe che cade insieme a Jen riesce a grapparsi all'albero e vedi e vedi i lucertoloni che stanno risalendo che li guardano e fanno a me quella roba fa morire cioè vi giuro io mi diverto con poco però sono gag strutturate secondo me benissimo e quindi è interessante notare proprio il fatto che è un film in cui Poe deve ancora una volta cercare di capire chi diventerà prima non sapeva fare niente a detta sua e poi è diventato il guerriero dragone poi come guerriero dragone si è evoluto per ben due volte adesso deve diventare qualcos'altro e ovviamente sceglie Jen come sua allieva perché Jen è un po' come lui cioè lei era un'orfanella che a un certo punto è stata presa sotto l'ala protettrice della camaleonte infatti lei porta Poe dalla camaleonte solo perché la camaleonte ha bisogno del bastone che Huguei ha dato a Poe perché è quello con cui si apre il portale delle anime e quindi Jen tradisce Poe ma sta male nel farlo perché si rende conto che Poe le vuole bene e la camaleonte invece ha solo sfruttato le sue insicurezze e le sue abilità a proprio vantaggio e quindi lei si rende conto di non essere cattiva si rende conto di avere qualcosa da offrire e quindi è lei in un certo senso a sconfiggere la camaleonte in realtà il colpo di grazia glielo dà Poe però la sconfitta della camaleonte avviene proprio grazie a Jen perché è Jen che deve dimostrare di essere degna di essere il guerriero dragone tra l'altro bellissimo il fatto che lei quando dà l'ultimo colpo alla alla camaleonte dice Kablam e allora quando poi Poe dimostra che in realtà non era imprigionato nella gabbia come si pensava ma che ha lasciato Jen ha lasciato Jen sconfiggere la camaleonte perché era un test diciamo quando si vede che la camaleonte non è sconfitta del tutto cioè lui che dice e comunque ti ho già detto che la parola è scadush e la spazza via ecco quello è un bel finale perché comunque alla fine il colpo di grazia glielo dà Poe perché il pubblico quello voleva però era importante che questo film fosse l'origine del nuovo guerriero dragone e a me piace un sacco questo concetto per cui è bello così come mi ha fatto anche piacere vedere il finale con l'allenamento con i cinque cicloni che nel film non ci sono per congnuno è a compiere una diversa missione ok quindi il finale con Baby One More Time coloro che combattono è anche interessante è bello vedere che comunque Jen è ancora acerba e che Shifu la allena Poe nel frattempo sta diventando il nuovo saggio per cui un Kung Fu Panda 5 con Jen ormai guerriero dragone che si sta fermando e Poe che è il vecchio saggio francamente a me non dispiacerebbe cioè io onestamente lo guarderei molto volentieri un film del genere perché perché dopo quattro film ecco che c'è un'evoluzione che porta il franchise ad un livello successivo allora non mi dispiacerebbe poi la questione Papà di Poe e dei due Papà di Poe mi piace tantissimo quando arrivano nella locanda in bilico io lì ero boh tutta quella parte sia quando ci vanno Poe e Jen sia quando ci vanno i due Papà è geniale cioè ha dei momenti proprio che mi hanno fatto morire e i loro due sono perfetti perché poi anche il Papà di Poe impara qualcosa impara per l'appunto a essere un po' più coraggioso il fatto che comunque abbia questo aspetto super imponente che però non corrisponde al suo carattere mite tranquillo a me a me diverte per cui è sicuramente un film che ha qualche problemino perché comunque soprattutto nella prima parte ci sono gag su gag che sono anche divertenti ma che boh si trascinano un po' cioè la storia sembra molto buttata lì Shifu che arriva e dice non sei più il guerriero dragone devi sciogliere il successore lui che dice ma come senza neanche un avviso poi però da quando iniziano ad andare a cercare la camaleonte secondo me il film si riprende tantissimo e inizia a ingranare per quello che deve fare ingrana per davvero quindi si arriva ad un finale che per me è stato soddisfacente le gag funzionano i combattimenti sono molto belli quello con Tai Lung che sbaraglia tutti è fantastico è bello vedere comunque insieme Kai Shen Tai Lung tutti i vari maestri comunque è ambiziosa come idea è molto ambiziosa se posso dire il combattimento finale con la camaleonte me lo sarei aspettato leggermente più lungo però anche così va bene onestamente cioè quando poi lei prende le sembianze di Po è molto carino peccato in inglese rendeva di più perché se voi vedete in inglese c'è lui che dice I'm gonna kick my butt mentre invece in italiano hanno optato per il kick my butt è diventato gonfiare di botte e si viene ripetuto spesso nel film e c'è lui che dice ora mi gonfio di botte mi prendo a calci nel sedere sarebbe stato più carino però in realtà va benissimo così cioè comunque e poi in questo film mi è piaciuto particolarmente mi ha fatto tanto tanto sorridere per cui è un film che io ho apprezzato è un film che mi è piaciuto al netto dei suoi difetti comunque ha una sua profondità anche per gli insegnamenti che regala per cui per me è assolutamente promosso per cui fateci a vedere un conto di questo cosa ne pensate voi nello specifico sempre contrassegando il commento se fate spoiler io vi abbraccio vi ringrazio grazie a me e noi ci vediamo al prossimo weblog ciao a tutti grazie a tutti